Ciao, vieni. Questa è la camera da letto. Mi piace? Molto, molto. Togli della giacca. Togli della giacca? Eh sì, ti metti a tuo agio. Perché hai chiuso la porta? Così, un po' di intimità. Non mi aveva detto di avere l'extrasistole. Ti avevo detto io? Ah, sì, dottoressa, ho avuto questa settimana degli episodi di extrasistole, sì. Avanti. Sì. Sì, diri sulla maglietta. Sì. La visita. Sì. Che mi fa? Ecco qua. Che sente? Battito accelerato. Mh? Extrasistole in corso. Sono cardiopatico? No. Questa lo sa cos'è? Cos'è? È ipertensione da sentimento. Non dici? No. Sì, lasci. Sta bene così. Le piaccio cardiologa? Molto. L'occhiale. Ah, ti sei un po' perverso. Faccio delle cose strane, così. No, no, sull'occhio non cazzo. No, scusa, forse. Non mi son male. Ah! Si fai qua 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 qua.